Back at me TV Bentornati su Balconi TV Sassari, io sono Laura e con noi oggi Carlo Doneddu, ciao Carlo Ciao Che cosa eseguirai per noi oggi? Dunque, suonerò una canzone, è stata dal mio ultimo disco che si intitola Le canzoni dell'estate Il titolo del brano è Tutta l'estate in pattini Benissimo, enjoy the show! Tutta l'estate in pattini sugli arcini Pantaloncini elastici, dinamici Ritorneremo a vivere qua giù Ritorneremo a perderci qua giù Dorore, chini esotici, erotici Tatuaggi periferici, strategici Ritorneremo a vivere qua giù Pensieri in velle e tari che bruciavano Nel fuoco dei nostri egoismi fragili Amore mio non ti fermare mai Amore mio non ti lasciare mai Quel rosso delle labbra delle bambole E il senso ansioso e dolce del pericolo Avremo il tempo per finire mai Avremo spazio per finire mai Cico del cuore, cico del tempo Cico dell'aria, cico del vento Cico del mondo, cico del mare Cico del sale, cico Nel mare fermo all'alba dei miracoli Galleggiavamo come pietra pomice Non ci sembrava vera la realtà Sospesa ci sembrava la città E i nostri occhi aperti per illuderci La terra surra vista dai satelliti Ancora qualche cosa svanirà E ancora qualche cosa svanirà Gabbiani verso l'entroterra fluidi Di scariche fumanti raggiungevano Il mondo chissà mai dove che andrà Il mondo chissà quanto durerà E a oriente ingigantivano metropoli E topi percorrevano cunicoli Amore mio non spaventarti mai Amore mio non ti sciupare mai Cico del cuore, cico del tempo Cico dell'aria, cico del vento Cico del mondo, cico del mare, cico del sale, cico L'amore solitario degli spasimi E amarsi con le mani e con i tendini Spietata, deliziosa libertà Spietata, fanitosa libertà Tutta l'estate in pattini sugli argini Pantaloncini elastici Dinamici Allora intanto complimenti perché è veramente un gran pezzo Ci è piaciuto un sacco e poi sembra fatto apposta Perché è perfetto per questa location estiva Diciamo che ci accompagnerà per qualche show Quindi grazie di nuovo Grazie a voi Allora so che è appunto un brano tratto dal tuo ultimo album Ucciso l'anno scorso Però so che ci tenevi a fare una precisazione Insomma ci vuoi raccontare? Questa canzone è scritta da un caro amico Un cantautore Un cantautore non molto conosciuto Ma secondo me incredibilmente bravo Che è Gianni Piras di Alghero Quindi se volete approfittarne per ascoltare anche il suo disco Sicuramente vi farà piacere Bene, sicuramente lo faremo perché Insomma sicuramente è un disco molto valido Ascolta, ci vuoi dare qualche programma Sulle tue date di quest'estate Dove possiamo venire a vederti? Dunque Diciamo che stiamo fissando Quest'anno è tutto in ritardo Stiamo fissando adesso le date Sicuramente una data Sarà quella con il mio quartetto spagnolo Ovvero Il quartetto che fa base a Barcellona Dove io vivo la maggior parte dell'anno Che sarà il 26 agosto a Tissi A Tissi In compagnia di un altro gruppo Molto interessante che si chiama Dilatta TAC Ok, appuntamento quindi il 26 agosto a Tissi Però per ricordarcelo c'è un sito dove ci sono le date O comunque dove informarci sui te, sui tuoi pezzi e sul tuo lavoro Sì, a parte la pagina Facebook Carlo Doneddu O il mio sito internet www.carlodoneddu.com Benissimo Io ti ringrazio ancora per essere stato qui con noi E per aver condiviso questo pezzo con Balconi TV Sassari Io vi saluto con Carlo Doneddu Io sono Laura su Balconi TV Sassari Alla prossima Grazie mille Ciao Ciao Ciao